che problema c'è tanto ormai siamo abituati che fantastico risveglio mi verrebbe da aggiungere perché ho mantenuto la Roma ha perso e vabbè non è che speravo in qualcosa di differente ormai ci sono abituato mi sono fatto la mia media di 4 ore e mezza di sonno a notte quindi mantengo perfettamente una media veramente ridicola e dopo il danno arriva la beffa perché? perché mia figlia mi ha attaccato l'influenza quindi non è che mi sento uno straccio di più non mi reggo in piedi anzi no la cilogina sulla torta ulteriore è andare ad editare la live reaction e a metterci i bip perché io ho una dignità sul web e non ho nessuna intenzione di trasmettere in maniera negativa quelle che sono delle cose che considero dei miei difetti all'utenza che mi segue quindi perderò 4 ore e mezza solo per mettere tutti i bip che ho detto ecco bene perfetto bentornati e ben ritrovati me lo avete chiesto in tantissimi tranquilli perché lo avrei assolutamente fatto visto che parliamo di inter andrò a dare i voti anche ai calciatori dell'inter questo è il pagellone anche e soprattutto ovviamente sui calciatori della Roma vi chiedo di supportare questo contenuto lasciando like non vi costa niente vi assicurerete i pagelloni a venire per tutta la stagione della Roma sia che vinca sia che perda vi chiedo anche di iscrivervi e di attivare la campanella anche su questo canale youtube per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblico qualcosa ovviamente se vi fa piacere ho due canali di calcio e un canale extra calcio li lascio in descrizione come sempre compariranno qui durante il video so che la Roma giocava in casa ma comincia dai calciatori dell'inter e ribadisco sarò più rapido perché poi mi voglio concentrare soprattutto sui calciatori della Roma Sommer ragazzi io onestamente parlando gli do la sufficienza perché il gol non l'ha subito però onestamente io ho visto abbastanza le saponette al posto delle mani non so se ve ne siete resi conto gli scappano un paio di palloni uno se lo butta sul palo e a momenti fa una frittata di quelle clamorose non ho mai visto Sommer in queste in queste vesti però ecco la differenza con noi è che una grande squadra quando c'è il singolo che capita in giornata no che gli fa cappellate le partite non le perde le vincono lo stesso quindi la sufficienza a Sommer mi sento assolutamente di dargliela Pavard sufficiente onestamente parlando ho visto una partita tranquilla ho visto una partita in cui cercava il raddoppio su Dobbic per cercare di arginarlo non ha fatto chissà che cosa non ha fatto una partita di quelle assurde lui come tutti gli altri calciatori dell'Inter non mi hanno dato l'impressione di poterci fare 27 gol siamo noi che siamo deficienti continuo a ribadire il concetto e a quella poranima di Acerbi che dopo 20 minuti e qualcosa si è strappato la sufficienza gliela do perché stava facendo una partita di ordinaria amministrazione non ha rischiato assolutamente nulla De Vrij lo metto sul livello di Acerbi e di Pavard secondo me non è che abbia fatto ordinaria amministrazione non ha fatto assolutamente niente bastone invece lo voglio premiare con il 6 e mezzo su Dybala addirittura qualcuno ha detto che ha fatto un gioco cioè manco Ronaldinho ragazzi si è fermato con la palla attila da indietro e si è riportata avanti è Dybala che stava a pensare alla figa probabilmente perché non ci ho visto niente di assurdo in quello che ha fatto so cose che facevo pure io quando giocavo a pallone e non mi considero un fenomeno detto questo andiamo avanti Bissek voto 6 sufficiente perché subentra e anche lui ragazzi fa quello che deve fare senza sbavature e senza incorrere in problemi Darnian invece gli do 5 e mezzo l'ho visto un po' in ritardo di condizione in difficoltà non lo so è raro vedere Darnian fare prestazioni sotto la sufficienza perlomeno secondo il mio parere personale l'ho visto abbastanza bloccato e mi è da ridere se penso che ci avevamo noi sulla fascia quindi gli do 5 e mezzo magari sarà stata la mia percezione ma ragazzi qua vedo i miei voti e i miei pareri personali se non facciamo il paggellone vostro Dunfries invece gli do 6 e mezzo subentra se non mi sbaglio due volte due volte mette in difficoltà Svilar che è costretto a mettere le mani una sicura ma forse erano due tra una bestemmia e un'altra mi era difficile distinguere i calciatori ve lo dico proprio onestamente però ecco solitamente preferisco tra virgolette togliendome la maglia della Roma Darnian a Dunfries in questo caso secondo me si è fatto preferire Dunfries per la prestazione che ha fatto li resuscitiamo sempre noi quelli che si reggono meno in piedi rispetto a chi fa super prestazioni e viceversa 6 e mezzo Cialanoglu è da senza voto Poraccio pure lui si è scocciato si è fatto male qualcuno mi ha lanciato la provocazione mi ha detto eh ma l'Inter poi ha cominciato a non girare o comunque a non girare come avrebbe dovuto perché se fa male il calciatore più importante il regista quello che è detto ai tempi potrebbe anche essere ragazzi non lo escludo assolutamente a Cialanoglu il voto no io lo posso dare subentra frattesi che qualche difficoltà secondo me all'inizio ce l'ha avuta e poi nel secondo tempo ragazzi ha alzato l'asticella ha rubato tra virgolette lui il pallone che poi ha portato al gol del vantaggio dell'Inter e fa sempre la sua prestazione di sostanza sempre a tutto campo sempre attivo reattivo e continuerò a rimpiangerlo per il resto della mia vita perché noi calciatori buoni ovviamente li regaliamo agli altri le pippe invece gli rinnoviamo i contratti a 700 milioni di euro all'anno per i prossimi 20 mila anni andiamo avanti perché a Barella l'ho deciso di dare 6 e mezzo è un calciatore universale che può giocare sulla mediana può giocare da mezzala giocare inserimento giocare impostazione giocare interdizione non c'ha una stazza fisica imponente eppure ragazzi regge sempre botta e non posso che dagli 6 e mezzo per la prestazione che ha fatto stessa sorte a Mkhitaryan che se sarà acceso a sprazzi a tratti però è intelligente tatticamente quando non ci arriva col fiato ci arriva coi piedi se Sagan ce la fa ragazzi la palla la passa rapidamente e crea un'occasione pericolosa perché la traversa ovviamente la prende lui è pur sempre un'occasione pericolosa svirale sembrava abbastanza in controllo in quella situazione perché scheggia la parte alta della traversa però intanto l'anzeppa Pippo Franco te ce la mette a differenza tua 6 e mezzo Di Marco stranamente gli do la sufficienza era quello che più mi preoccupava alla vigilia di questa partita e invece è stato quello che stavo per dire che siamo riusciti ad arginare io non voglio sembrare stronzo ma sei arginato da solo secondo me Di Marco perché semplicemente le fatiche della nazionale probabilmente avrebbe dovuto tirare un pochino il fiato però non ha fatto niente quindi sufficienza per Di Marco Lautaro Martinez il 7 se lo merita ma non perché secondo me ha fatto una super prestazione perché ragazzi l'unica occasione vera della partita cattiva dove sei chiamato a buttarla dentro per portarti a casa il bottino pieno lui la butta dentro punto basta e stoppa perché poi per il resto che altre occasioni pericolose ha creato Lautaro Martinez ne ho viste altre delle occasioni ma non mi pare che ne avesse create Lautaro fino a quel momento la prestazione era secondo me abbastanza anonima poi nei movimenti sicuramente avrà fatto i movimenti più adeguati più giusti ma ho visto altri Lautaro Martinez l'anno scorso ogni mezzo pallone ragazzi in una partita era sempre nel vivo dell'azione del gioco e ogni singola situazione sarebbe stato sempre pericoloso questo è quello che ho visto il 7 però se lo merita perché sotto gli occhi di tutti ragazzi ha fatto vincere l'Inter quindi ci mancherebbe complimenti e a Corea gli ero 5 e mezzo perché secondo me tra una bestemmia e un'altra mentre guardavo la partita ha sbagliato pure un paio di ripartenze e non mi sembra che abbia fatto tutta sta grandissima partita anzi non lo considero neanche sufficiente leggermente insufficiente Turam ci mette il fisico ci mette la stazza ragazzi Indica l'ha sofferto Mancini l'ha sofferto per quanto Cristante a un certo punto è riuscito ad arginarlo ma voi capite bene che stiamo parlando un giocatore veramente di un'altra categoria secondo me di un altro livello è un calciatore che magari non ti segna tutte le giornate in questo caso a parte c'ha 7 gol però in tante giornate non ha segnato ha fatto praticamente solo doppiette e forse una tripletta ha fatto nella si ha fatto la tripletta come l'ha fatta come l'ha fatta Retechi ha segnato in tre partite c'ha 7 gol ma ha fatto gol in tre partite stiamo all'ottava giornata e il suo apporto si fa sentire sempre a Inzaghi gli do 7 e mezzo gli do 7 e mezzo perché una partita dei suoi non così brillante non così incredibile come tante altre volte gli ho visto fare alla fine si la porta a casa e che cos'è che conta nel calcio ragazzi i bla 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 di chi dice abbiamo perso ma abbiamo grandi prospettive per il futuro o chi invece dice magari oggi non siamo stati impeccabili ma glielo abbiamo buttato al culo a secco ecco andiamo avanti Svilar ormai è una costanza è una certezza è 7 e mezzo perché ho perso il conto delle parate miracolose che ha fatto ci ha salvato il culo almeno in 3 o 4 occasioni mi sono rotto il cazzo onestamente di parlare di Svilare che fa che fa miracoli anche perché quando il migliore della squadra è sempre il portiere significa che stai facendo vomitare il cazzo non so se siete se siete d'accordo con me poi continuo a ribadire ci stanno tifosi della Roma che si accontentano veramente di poco si accontentano veramente del nulla cosmico Fabio mi dice ma tu non devi pensare a quello che pensano gli altri io in realtà non è che penso a quello che pensano gli altri sono gli altri che quando esprimono il loro parere mi lasciano veramente basito perché significa che siamo caduti in un vortice di di provincialismo di provincialato ditelo come vi pare veramente assurdo veramente clamoroso siamo arrivati veramente ad accontentarci di aver perso 1-0 con l'Inter questo è quindi complimenti veramente a chi ti fa la mia stessa la mia stessa squadra Mancini indica e Angeligno io vi dico la verità gli do 5 e mezzo a tutti e tre in condizioni normali gli avrei dato 6 anche perché non fanno loro sbavature cazzate in occasione del del gol loro però ragazzi non è che l'Inter abbia fatto tutta sta sta grandissima prestazione sta grandissima partita e nonostante quello nei primi minuti hai sbandato gli hai concesso più di qualcosa e a me la difesa ieri sera non mi ha dato nessuna sicurezza cioè io non mi sentivo tranquillo nonostante la partita lato Inter non fosse una partita di quelle clamorose se la difesa non te dà sicurezza se Svilare arriva a essere migliore in campo io non posso dar sufficiente al pacchetto dei tre di difesa punto basta e stop senza staffa ragionamenti e giri logici strani che di senso non ce n'hanno assolutamente Selic è da quattro perché c'è anche grossa responsabile sulla più grande responsabilità c'è un altro calciatore in occasione del gol dell'Inter però pure lui sicuramente poteva fare qualcosa in più sicuramente poteva fare qualcosa di meglio e se poi la Roma fa il calciomercato per tenere titolare uno come Selic a cui non voglio mancare rispetto perché è un professionista però vieni pagato milioni quindi penso che un tifoso abbia tutto il diritto di criticarti io non me la prendo con te ma con chi ha fatto il calciomercato per prendere le tue alternative e non cercare di alzare la sticella non so se me una sconfitta probabilmente ragazzi alla dirigenza e alla proprietà gli piace vedere sta roba bene voto 4 Pone ha fatto cagare il cazzo non ho nessun problema a dirlo l'ho elogiato tante e tante volte ha fatto tante bellissime prestazioni secondo me l'ho sottolineato tante e tante volte in questo caso veramente non ci stava a cavi in cazzo completamente fuori tempo in ritardo su qualsiasi calciatore non ha impostato un pallone che fosse uno ogni tanto c'ha la caratteristica di provare a salta all'uomo ragazzi non ci è riuscito manco per sbaglio inserimenti nulli cioè se Iuric ce lo toglie e mette pisilli un motivo cioè ragazzi è che non se stava a regge in piedi ovviamente non è così incompetente Iuric ovviamente come qualcuno può pensare è uno comunque del mestiere le sa vedere le cose e io stesso lo so lo so ammettere tant'è che ci accontenta e lo butta fuori benissimo e non guarda al nome agli investimenti Pisilli secondo me ha da sufficienza qualche critica l'ho letta nei confronti di Pisilli qualcuno ha detto non ha fatto tutta sta grande prestazione è ragazzo di vent'anni che praticamente io lo considero ormai intitolare che gioca con la nazionale italiana che ha bruciato le tappe che si è messo davanti ad altri centrocampisti della Roma tutto il calciomercato e tutti i soldi che sono stati spesi entra in un palcoscenico in una partita così importante così maschia così difficile e secondo me poi alla fine ragazzi quando c'è stata mette c'è il fisico quando c'è stata mette il corpo quando c'è stata protegge palla su Turam lui lo fa quindi per me è più che sufficiente una prestazione del genere non mi aspetto quel qualcosa in più da lui ma da altri calciatori Cristant è da 5 ovviamente perché sì ok un paio di chiusure in interdizione che mi hanno soddisfatto vi dico la verità all'interno della partita ma poi se siamo lenti se siamo macchinosi se non cabbiamo mai passo è perché si tende sempre a rallentare la manovra è inutile che ci prendiamo per i fondelli cioè può essere consono ad interdire il gioco a spezzare l'azione in alcuni casi ma poi quando si tratta di fare quel qualcosa in più di creare superiorità numerica tutto che deve partire comunque anche dai tuoi piedi e non parte c'è sta poco da ti voto 5 Zaleschi è da 3 è stato pure buono io non ce l'ho con sto ragazzo ve l'ho detto ragazzi è sbagliato scusate ve l'ho detto sto male è sbagliato secondo me portare avanti la crociata dell'accanimento degli insulti sui social per me ragazzi si è sbagliato ma ha fatto roter culo abbiamo perso la partita anche soprattutto per il suo errore ma finisce là basta non so un disco rotto che continuo fischio tanto non serve io ho capito una cosa ragazzi che non serve a un cazzo fischia i carciatori prendertela mandarli a fare in culo non serve assolutamente a niente ha fatto una cazzata siderale a me la cosa che mi fa girare i coglioni la cosa che mi fa girare il cazzo è vederlo giocare con la Polonia e fare quel tipo di prestazioni e non è un caso perché le fa di continuo ragazzi e poi venire in squadra dopo il reintegro dopo tutto quello che è successo e non voglio entrare rientrare nei meriti della sua scelta perché non me ne frega neanche niente e poi però ragazzi vedere nel momento clu nel momento più propizio quando non dico che serve che acceleri e che ci devi buttare una palla in rete ma che non devi fa cazzate la cazzata la fai te il voto è 3 e non voglio ulteriormente rientrare non ce l'ho è un bravo ragazzo c'ha 22 anni non ce l'ho con lui non voglio trasmettere odio nei suoi confronti perché è una cosa veramente brutta secondo me stessa cosa nei confronti di Cristante io ragazzi lo sapete giudico le partite per quello che so poi guardo oltre poi è ovvio che se domani rigiocano e sei recidivo lì per lì mi c'è rincazzo un'altra volta ma finisce là ci tengo a precisarla sta cosa e mi piacerebbe qualora lo faceste anche voi invece di sta a perdere tempo inutile a insultare a di cattiverie a come si dice a esprimere odio nei confronti personali di determinate persone ha fatto cagare se prende il 3 e ci rimette lui lui deve sviluppare la sua carriera per cercare non lo so un giorno arriva a giocare in una squadra più forte per cercare di guadagnare un sacco di soldi perché tanto Totti che rimane a Roma a vita non esiste più e quindi ci rimette lui ci rimetto di certo io io mi posso un cazzare lì per lì per una partita ma tanto sono abituato a vedere queste figure de merda quindi qualcuno mi ha detto ma c'ha avuto pure il coraggio di parlare di figure de merda ma hai perso su quella cazzata hai perso su quella cazzata clamorosa non è una figura de merda che è partite che sulla carta sembra che te potresti portare almeno un pareggio perché il gol non lo meritavi manco quello riesci a fare non è una figura de merda che è non siete ne manco un risultato contro una squadra che inseregge in piedi perché secondo me ieri sera l'Inter insereggeva in piedi l'Inter dell'anno scorso contro sta Roma gliele faceva 5 se non 6 addirittura Baldanzi sufficiente ragazzi fa quello che deve fare non ha fatto cazzate apprezzo più chi entra non dà la svolta ma non fa cazzate Di Bale e Sule allora no correggo avevo dato 6 a entrambi invece gli voglio da 6 e mezzo per quanto Sule non mi è piaciuto minimamente fino a prima della conclusione ha creato una conclusione però pericolosa dove Sommer c'è una pezza abbastanza non era un tiro che dici ha fatto il miracolo di quelli clamorosi però intanto in quel caso Sommer la pezza ce l'ha ce l'ha messa ma mi stava facendo cagare fino a quel momento non sempre 10 tocchi di palla prova a sarta l'uomo una volta ci riesce una volta no non ci è mai riuscito praticamente palloni in mezzo sprecati e buttati perlomeno ragazzi ha fatto qualcosa di più rispetto quello che io ho visto fare finora e un minimo di svolta ha provato a darla sul di bala veramente mi devo esprimere sul 6 e mezzo se non c'è sta lui in campo ragazzi la squadra non gira la squadra non va passa tutto dai suoi piedi e mi meraviglio mi meraviglio che era stato messo alla porta e gli era stato detto te ne puoi pure a nà siamo disposti a risparmiare sull'ingaggio non ce ne frega un cazzo Pellegrini gli do sufficiente se crea quell'occasione ma secondo me te la fa molto di più ragazzi perché non è stato irreprensibile il tiro avevi tutto il tempo in modo di angolare sta cazzo di palla e di portare in vantaggio la Roma fossimo passati in vantaggio in quel momento in cui stavamo prendendo le misure all'Inter chi lo sa quello che sarebbe successo magari l'avrebbero pareggiata lo stesso magari l'avrebbero ribaltata ma ragazzi io mi aspetto di più dal capitano della Roma continuo a ribadire continuo a ripetere non mi vuoi fare una partita sì e otto no una partita sì e otto no perché noi chiediamo lineari preferisco cioè che non fai manco l'exploit nella singola partita e piuttosto mantieni sempre una linea un po' più bassa mi fai incazzare di meno voto sei Dovbic 5 e mezzo ragazzi qualche pallone che gli è arrivato decente lo ha saputo proteggere assolutamente lo abbiamo visto tutti quanti però poi mi dà sempre senso di essere un pesce fuor d'acqua ragazzi in alcune partite veramente se guarda intorno un'anima un pena un fantasma che cioè gioca per la Roma ma non si sente in alcune partite ribadisco proprio coinvolto parte integrante del gruppo e la responsabilità anche di tutti quelli che gli girano intorno io do 5 e mezzo ragazzi è mancata la personalità nel gruppo come sempre prendere la squadra e Juric vabbè allora fosse per lui se se dovesse dar un voto se darebbe 9 e mezzo probabilmente 10 e no perché alla fine l'hai persa non l'hai pareggiata la partita e per me invece è da 5 e potevo anche essere più cattivo potevo anche essere più stronzo ragazzi se dice sì hai giocato decentemente dignitosamente ma come ha detto mio fratello ma che cazzo hai fatto che cazzo hai fatto tutta la partita ma veramente si accontentammo del nulla cosmico ragazzi veramente si accontentammo del tiro di Pellegrini in tiro di Sulear 98 cioè questa è la Roma una squadra che ha fatto 8 gol in 8 partite la stessa identica media che Juric aveva l'anno scorso per quanto vuoi Juric ovviamente si è inserito un corso d'opera quanti gol ha fatto la Roma con Juric la Roma si deve solo sbloccare che aspettiamo che finisce il campionato per fan gol dove cazzo vuoi andare 5 e ripeto poteva essere tranquillamente 3 ma io do 5 perché ve voglio far capire e ritorno sempre sullo stesso argomento che per me la colpa non è solo dei Juric ma di chi ce l'ha messo alla guida della Roma in un periodo storico in cui devi cercare di fare qualcosa in più per vincere trofei per provare a vincere trofei e per non dico alzare l'asticella in Europa ma mantenere l'asticella delle stagioni precedenti e se so questi i presupposti secondo voi è stata la scelta giusta mi dispiace ma allora mi sa che o io non capisco un cazzo o non capite un cazzo voi